Con la droga e un bambino di due anni in auto, i carabinieri accudiscono il piccolo. Una donna con precedenti, residente in Ossola, è stata fermata dai militari del radiomobile della compagnia di Verbagna, vicino a Brovello Carpugnino. È stata trovata in possesso di cocaina e hashish, si è rifiutata di sottoporsi ad accertamento per verificare l'eventuale uso di sostanze, quindi è stata denunciata per guida sotto l'influenza di stupefacenti e la patente di guida l'è stata ritirata. A bordo della sua auto i carabinieri hanno notato la presenza di un bambino di poco più di due anni, figlio della donna, che da subito è apparso in condizioni fisiche non ottimali. I militari hanno deciso di portare entrambi in ospedale a Verbagna per accertare le condizioni del piccolo accudito dal personale del reparto di pediatria e dagli stessi carabinieri, uno dei quali gli ha cambiato anche il pannolino. Inoltre, date le circostanze del controllo, sentiti anche gli assistenti sociali, si è deciso di attivare la procedura per l'affidamento e il collecamento del minore in una struttura protetta che sarebbe stata trovata l'indomani mattina. Il piccolo è quindi stato lasciato in ospedale, anche se in presenza della madre, che però approfittando della momentanea assenza del personale sanitario per altri interventi in reparto, si è allontanata con il bambino. I carabinieri hanno attivato quindi serrate ricerche in tutta la provincia, rintracciando la mattina successiva nell'ossola in un altro domicilio la donna e il bambino che indossava ancora gli abiti del giorno prima. Li hanno portati entrambi in caserma domodossola, dove i carabinieri hanno atteso gli assistenti sociali che, prelevato il minore, lo hanno portato in una località protetta. La donna è stata quindi denunciata anche per sottrazione di persone incapaci. Nei prossimi giorni il Tribunale dei Minori deciderà se convalidare o meno il provvedimento di affidamento del piccolo.